Ritorna sui nostri schermi una grande protagonista nel teleromanzo che ha consacrato una delle coppie più amate. Io non ho niente da offrirvi. Non ho bisogno di niente, solo del tuo amore. Una studentessa bella e ricca che per un capriccio vuol fare innamorare di sé il suo bel professore. Lei è una persona così umana, un bravo professore, un vero uomo. Sei sicuro di non esserti innamorato di lei? Io l'amo, professore. Sono innamorata pazza di lei. Catherine Fulop Non potrei baciarla senza desiderare le mie labbra. Fernando Carrilio Che cosa vuoi che ti dica? Che ti amo? Sì, ti amo. Io ti amo, Alessandro. Ti amo. Marilena, prossimamente su Lady Channel. Sì, ti amo. 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 Grazie a tutti.